A me ha dato moltissima, moltissima emozione perché, come ha detto più volte Ivan, io sono imprenditore da tanti anni ho fatto sempre un lavoro tradizionale non pensavo che il network marketing potesse dare così tanta gioia e sono solo all'inizio, non sono ancora un professionista nonostante leader, ma non sono ancora un professionista ho fatto benissimo a venire a soltare una persona professionista e frutto, diciamo, che io mi sono visto molto in lui frutto forse della sua sofferenza per il lavoro tradizionale e la sua svolta me la sono vista tutta come film cioè lui parlava, io la vedevo come un film, come la nuvoletta che diceva cioè come lui immaginava, diceva le cose e mi visualizzavo al suo posto, mi visualizzavo questo cambiamento io devo chiudere la mia azienda, per essere felice come credo veramente perché mi sento, non responsabile, mi sento fiero di questo lavoro e sicuro che ce la potrò fare adesso non voglio dire quindicesimo, dodicesimo, sedicesimo livello sicuro di prendere un passo simile al suo a meno copiarlo ringrazio sempre tutta la vita mio fratello che ha insistito sono stati i miei sette mesi di che io mi sono disassociato da lui mi sono dissociato perché noi abbiamo una famiglia siamo fratelli proprio unitissimi e io mi rendo conto di sette mesi che avevi fatto un po' di male il fatto che non l'ho supportato ma lui ha fatto la cosa contraria anche se era più piccolo ha certo di dire per dire in due siamo realmente forti solo, forse non raggiungerò mai il top da quando anch'io mi sono messo con lui a essere tenuti a vicenda a supportarsi a vicenda lui ha avuto degli ottimi risultati io ho anche avuto dei buoni risultati e spero di avervi più io vi ringrazio tutti per avervi ascoltato ringrazio Fai Bianco e un grosso abbraccio a Iva grazie a tutti grazie a tutti